c'è un uomo di fuori se ne vada da casa mia se potessi fare a cambio lo farei volevo dirlo allora se io dico jennifer aniston a voi cosa viene in mente mi viene in mente friends mi viene in mente brad pitt e poi niente altro di particolarmente interessante e invece invece jennifer aniston è emblematica di quello che fanno tanti attori americani io penso che gli attori americani si mettono in gioco se voi andate a guardare le biografie delle grandi star potrete vedere che non dico tutti ma moltissimi si danno da fare in un modo o nell'altro producono piccoli film producono documentari scoprono dei giovani insomma non si limitano semplicemente a fare le star che mettono da parte miliardi e miliardi ma sono veramente appassionati di cinema questo penso che sia proprio una cosa vera jennifer aniston infatti ha prodotto questo film che si intitola cake e perché l'ha prodotto l'ha prodotto perché la storia evidentemente le piaceva tantissimo perché era una grande prova d'attrice ora non è che producono semplicemente per mecenatismo per buttare via i soldi o per scaricarsi parte dei compensi dalle tasse è chiaro che se si danno da fare investono perché c'è qualche cosa che a loro piace evidentemente a jennifer aniston questa storia è piaciuta e quindi lei si è buttata in prima persona fregandosene completamente anche di come appariva allora com'è la storia di questo cake uno dice cake pasticcino sarà un film divertente sarà ratatouille assolutamente no è un film drammatico perché racconta la storia di questa avvocatesta americana molto tosta molto decisa che però è vittima di una tragedia immane la cosa peggiore che può capitare a una donna un incidente d'auto il bambino bambino di tre quattro anni muore lei rimane in parte sfigurata piena di dolori e noi la vediamo all'inizio del film in questi gruppi di autocoscienza di auto aiuto sul dolore lei con tutte le sue cicatrici che fa fatica a muoversi perché piena di perché non si è rimessa perché aveva avuto i chiodi nelle gambe per un sacco di tempo è insopportabile anche nel gruppo di di auto aiuto per cui viene buttata fuori e per tutto il film seguiamo il calvario di questa donna che continua a vivere ma che non ne ha più nessuna voglia perché perché la vita è diventata impossibile e rifiuta tutto quello che c'è intorno per cui si separa dal marito anche e rifiuta tutti quelli che la vogliono aiutare vive con questa domestica messicana che la sopporta e le vuole un sacco di bene fa di tutto per starle vicino ma è difficilissimo stare vicino a lei perché è antipatica con tutti perché è raccata il giardiniere per provare a passare una notte con un uomo ma in realtà non le importa nulla neanche di questo qui e in tutto il film viene raccontato il percorso di questa donna per cercare di arrivare a versare delle lacrime per riuscire a dire sono stata una buona madre per riuscire a trovare un qualche cosa ancora di positivo che le faccia dire sì forse posso continuare a vivere una delle cose belle del film è il rapporto che si viene a creare fra lei e il marito di una delle donne di questo gruppo di auto aiuto che si suicida e lei lo avvicina in un modo assolutamente anomalo facendo finta di avere abitato nella casa dove questi abitano semplicemente per entrare nella vita per cercare di assorbire un po di energia un po di vitalità anche da un altro da un luogo dove c'è stato un dolore simile al suo e cercare in maniera disordinata un aiuto un qualche cosa che le faccia continuare a dire posso andare avanti posso andare avanti è un film tradizionale non aspettatevi un film rivoluzionario chissà che cos'altro però un bel film scritto benissimo e soprattutto con questa attrice che si fa vedere brutta invecchiata con le cicatrici ingrassata quindi non pensate che gli attori vogliono sempre apparire sullo schermo al meglio che vogliono dare l'immagine di una eterna giovinezza non è assolutamente vero gli attori soprattutto i migliori quelli che ci credono in questo lavoro si mettono in gioco e Jennifer Aniston non è soltanto quella di Friends non è soltanto la fidanzata di Brad Pitt ma è una che ha voluto mettersi in gioco e quindi noi le diamo un voto positivo assolutamente positivo cake con Jennifer Aniston Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti